Onorevole Fittu, un altro incontro qui a Genova, ma che è un incontro che spazia su tutta Liguria, lei ha parlato anche con l'onorevole Musso, c'è insomma un'apertura e un lavoro sul territorio per andare dove? Per andare verso l'appuntamento del 28 di gennaio, che è un appuntamento nel quale noi daremo vita ad un nuovo soggetto politico, mettendo a sistema insieme tutte le diverse realtà civiche e territoriali che in tutta Italia in questi mesi si sono associate e hanno condiviso questo nostro progetto politico, un progetto politico che si richiama all'esperienza dei conservatori europei, che mette in campo una proposta seria, in campo programmatico dal punto di vista liberale e che soprattutto punta con delle regole precise a creare un'alternativa di governo alla sinistra del nostro Paese. Sicuramente l'appuntamento del 28 di gennaio è un primo momento decisivo nella costruzione di questo progetto. Sentiamo anche la parte imperiese perché ci si sta organizzando anche sul territorio, nel capoluogo. Sì, noi abbiamo, io ho incontrato più di un anno fa Raffaele, partecipo con tanto entusiasmo in questo progetto di coerenza, di una ricostruzione del centro-destra che in questo momento non esiste e con un progetto coerente si cerca di costruire già anche fin dai territori, partendo anche da Imperia, nella ricostruzione di questo progetto politico saldamente fermo nel centro-destra. che è molto molto positivo, io in quest'anno in cui l'ho conosciuto ho visto una persona molto determinata e molto preparata, tutto con grande coerenza come ho detto. Ecco Savioni, su Imperia c'è da ragionare anche poi in termini di elezioni future, da ragionare in termini di ricostruzione del centro-destra, oggi siete al governo col centro-sinistra. Assolutamente sì, adesso va bene, noi siamo concentrati sicuramente sui problemi della città. Io mi sto appassionando al progetto del non-revole Raffaele Fitto, lo sto seguendo, progetto molto valido in cui credo. Quindi ho già partecipato a Roma alla Convenzione Blu e parteciperò sicuramente il 28 gennaio all'incontro dove sancirà la partenza di questo grande movimento che si sta creando. Sicuramente il centro-destra si dovrà ricomporre e questo mi auguro che venga fatto più presto. su Imperia ci concentriamo esclusivamente sui problemi attuali dell'amministrazione. Ecco il coordinatore regionale Capurro che segue questo movimento blu ormai nascente perché significa appunto coordinarlo sull'intero territorio anche regionale della Liguria e la situazione allo stato attuale qual è. Qui c'è una buona partecipazione mi sembra. Beh stasera avete visto personalmente che il movimento non è più una cosa sulla carta ma è una cosa effettiva. Il 28 gennaio ci sarà la fondazione del movimento a Roma. Stiamo a livello nazionale grazie all'onorevole Fitto, a livello locale grazie all'onorevole Fitto e grazie al lavoro di molti tra cui i signori che sono qui con me. Stiamo organizzando il partito, ormai il 28 gennaio diventerà un partito nella Liguria. Non è bello fare i nomi, li vedete voi, cominciate a vedere già qualcuno che c'è la presenza stasera. Abbiamo sindaci, amministratori, consiglieri. Insomma c'è ancora molto da fare ma siamo abbastanza contenti.